ahahah e' bella a tutti ragazzi è Jflex che vi parla ed oggi siamo tornati nelle bad wars in compagnia di harry pot ciao troverete il suo canale sotto in descrizione e niente ragazzi volevo un attimino ricordarvi come al solito che troverete in descrizione la pagina telegram e il profilo di instagram mi raccomando seguitemi su entrambi i social perchè sono molto attivo ok siamo già al centro ok guarda quanto bell'oro uomo mio sono ricco c'è nessuno no sono tutti nelle isole quindi pure con calma ciao agli oncelli come va la vita mi dispiace per tutti voi che state facendo questa bad wars però siete contro 2 pro quindi può capitare qualche volta esatto no vabbè abbandonate no però oddio però qua dobbiamo mettere un blocco perchè sennò io muoio ok ora ci siamo ehi te ma te lo dico pure io ma devono essere gli altri permessi che non c'è nessuno ancora al centro si qua finalmente possiamo riscaldare il mio bellissimo arco oddio oddio no anche l'ho toccato se suicidato ha detto aiuto no vabbè c'è ciò basta c'è pure il live cioè tu lo vedi quando si suicida visto la potenza c'è proprio si spaventa e dice vabbè basta vi uccido ciao e anche per dargli la kill c'è oddio due colpi e l'ho ucciso a questo qua mamma mia oh però ti devi togliere ai disturbi eh vorrei un po' di oro ah si tieni aspetta e te lo passo sono qua al centro tieni to aspetta prendi cura e st'altro eh qualche freccia dai c'è un l'arco bello caldo qualcuno che vorrebbe quello là sta bardando ho detto io con calma bardo e poi vado al centro e il quale è molto tattico ragazzo mi sono scordato è vero bardo e poi ci lasciano ciao dai facciamo team facciamo team si tranquillo non vi ucciderò mai team 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 ma guarda mi raccomando se attenta qualcuno che qua non è colletto opere belle dobbiamo spellervi noi ciao se vedi qualcuno di me ok ragazzo allora è un po' incasinata questa mappa per dire la verità è troppo acquosa no non ce l'ho studiata allora facciamo così ragazzi però ci sono le ragnatele mi porti un po' di blocchi al centro perchè sto facendo una manovra di sistemazione della mappa si tu togli dire al mezzo marini ciao sistemiamo la mappa oh guarda ti stanno guardando al centro l'hai visto che che oh aspetta dai sto sistemando la mappa eh non mi disturbare io sto facendo un lavoro anche per voi eh 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 guarda 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 io sto lavorando sto facendo dei lavoretti tattici aia ma hai tanto sei cuori cosa morto quanto è potente il tuo arco scusa eh molto grazie per loro gentilissimo neanche portate i blocchi vedi qua è stato gentilissimo ragazzo da portarci anche dei blocchi al centro per sistemarlo vedi qua così si deve essere ragazzi facciamo un lavoro di collaborazione per sistemare questa mappa allora bravi bravi così si fa questa qua si chiama alleanza e poi ci scanniamo prima facciamo una piccola alleanza poi vi lascio l'acqua aspetta guaglioncella guaglioncelle morto ok oh raga ma non c'è un best killer c'è oh da dove è arrivato questo qua non l'ho visto ma andate dai me lo sto sistemando la mappa non ti permetti oh tu pure sei un buio è colpa tua che sono morto eh c'è eh eh che è gufara no bella in realtà mi ha preso da dietro quindi vabbè non potevo farci niente è bello ora c'è un mio arco bellissimo eh ci bussia eh ci bussia ammazzala 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 oh per i poco ove è qua bene ma ora ma mi chiedevi ma quante potendo il tuo arco poco oh da però ci sono scelta del villager e come dobbiamo fare e ce lo uccide eh no no però non parate così eh va bene attaccarci però ci stanno attaccando se non sei accorto eeeh 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 qualche blocco ce l'avevano i ragazzi io ne ho pochi non avevano blocchi ok ritorniamo in base a prendere gli altri blocchi perchè dobbiamo fare il lavoro mi raccomando dobbiamo rendere la mappa giocabile eeeh 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 mettete meno acqua lo santo dio e non mi dobbiamo andare questi sono morti mia magna non è loro ci lasciano a noi gli altri prego prima le signore calcala convinto ma ci stanno frecciando quelli dell'alto team ma allora io vorrei capire l'intelligenza delle persone che stanno giocando allora noi stiamo lasciando la... ma perchè tu hai avuto il mantino in vento ah... ce lo voglio buttare ma c'è ci sono state guardate una cosa a terra ma la ragazza vuole capire l'intelligenza delle persone che stanno giocando in questo momento allora noi stiamo lasciando un altro team però loro lo vanno a difendere cioè vi conviene anche a voi che che io lo distruggo vorrei un attimo capire il vostro ragionamento in questo momento vi conviene tutta la vita aspetta voglio e cadi ecco così impari Giorgio ti devo dire una cosa che non devi mettere nel video ok no aspetta ora no che sto distruggendo il letto ok letto distrutto ragazzo mi dispiace ci sono cose che capitano aspetta un attimo vi faccio una spada gentilissimo eh ok finale ciao no ok 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 aspetta vieni qua steve aspetta e passo è morto morto non vale comunque ragazzi spero davvero vai comunque ragazzi spero davvero questa battle se vi sia piaciuto come al solito vi ricordi di lasciare un like un commento ed iscrivervi al canale dai flex e da riporto è tutto bella are you ready